Partenza, Bruco, Drago, Torre, Aquila, Pantera, Onda, con Bruco che va in prima posizione al primo San Martino, Brio fa scorrere il cavallo davanti al Palazzo Pubblico, seconda posizione la Pantera, Bruco, Pantera al Casato ed ecco che riprendono e abbassano la velocità, terza posizione per Loca, Istice, Aquila, Onda, Drago e gli altri che stanno andando con andature molto contenuti, andiamo al secondo San Martino con la Pantera che da solo c'è un allungo da parte dell'Onda, Oca, Pantera, Oca, Onda, Istice, Bruco, si conclude così il secondo giro, sempre la Pantera in prima posizione seguito dall'Onda, dall'Oca, l'Istrice e gli altri hanno quasi fermato, andiamo al ultimo San Martino con Pantera e Onda, vediamo Porto Alabe che fa una volata davanti al Palazzo Pubblico e fa il suo ingresso al Casato, Porto Alabe, cavallo dell'Onda e l'Onda conclude con la vittoria, la seconda prova, seconda posizione per la Pantera, terza Istice e Oca.